E' un modo di dire teatrale, caro a nonnolino, quel TM proferito a un dialetto banfese che dice poco ma che rappresenta tutto, è un TM che dovrebbe significare il senso profondo del rispetto per un sentimento grande come il mondo, è un TM che racchiude in sé il senso di un amore o di un'assenza o di una presenza o semplicemente un vezzo per persone dell'animo sensibile che in quell'acronimo TM vedono e sentono con il cuore quel ti amo che è tutta una poesia e in quello aggiungere sé il vero amore guardando negli occhi l'altra parte senza abbassarli un imperativo sì ti amo ma non farmi male. TM testo in voce di Mauro Mazza Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.